Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Kill the Plumber è praticamente che tu devi uccidere Super Mario al posto che essere Super Mario e venire a uccidere non lo fate lì si era un maniaco, è nel nostro regno cosa? mandate le truppe praticamente noi siamo stati così, no? che dobbiamo ammazzare Super Mario è abbastanza facile solo che c'è un livello che non è per niente semplice cioè questo gioco ho già provato a giocarlo ma c'era questo livello che non riuscivo a fare comunque questo video non è solo per divertimento ma è anche per parlare di una roba seria che non deve essere ignorata tutti gli youtuber, cioè quasi tutti gli youtuber che conosco l'hanno detto ed è sul terremoto sì, esatto mi spiace tantissimo della strage e del terremoto che ha ammazzato un volto di persone ma io sono qui per portare video a posto per far sorridere la gente non per, per, cioè per dirgli ha ha sei morto eccetera no, io voglio far ridere la gente non disperare è quello che cerco di fare ogni giorno per questo vi ho portato un gioco che mi snerva e se arriviamo a 10 mi piace farò Cat Mario sì, esatto Cat Mario il gioco che ha rovinato l'infanzia di un sacco di bambini no, cavolo vieni qui Plumber allora devo mettermi così, così no, cavolo cavolo aspetta, devo mettermi così ok, così no già questo non è cioè non è molto facile cioè bastava così ma sono sì allora prossimo livello io mi metto proprio qui questo no non era questo il livello difficile era mi pare quello dopo in realtà il trucco qui è continuato a salvarlo no ci viene anche un secondo che cavolo appello le zio ok ok cos'è? un attimo va bene ecco no, era quello dopo dove metto qui? no non so se farà tanti tagli dai esci esci sì clear era questo? era questo che nervoso riesco a farlo il primo non ci credo no ci credo ce lo sto facendo il primo allora un altro 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 devo fare robe a caso allora fatemi pensare devo fare cavolo no ha vinto lui no non è netto non è netto non è netto si è netto vorrei se fossero i trucchi in sto gioco mamma mia allora il livello dopo di questo non l'ho mai fatto giuro questo livello ah vabbè c'è c'è questo era semplice perché ci usare sto cosone dai vieni e via c'è via c'è via c'è avvia dai bomba next level oh no no perché oh mamma mia oh no non ci credo mi sarebbe mi sarebbe capito aspetta 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 ok allora come cavolo faccio si si cavolo questo gioco ti mette durissima prova ma che allora voglio fare così no come si fa ah così ok così 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 e così cioè io ve lo consiglio ma non è per niente facile ciao mario it's me it's me mario it's a brother si 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 cavolo si ah sei intrappolato mi dispiace mori 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 kill the planet allora allora ho capito io devo stare qui no devo stare così no non ci credo mori allora un po' più indietro si si next level aspetta aspetta allora ora no devo stare così oh si è buggato un attimo il gioco ma che cavolo ma che fai schifo ha mh watcha watcha no ci credo allora devo fare pa z si allora io qua ah aspetta così comunque a riguardo nel terremoto sono molto dispiaciuto per le vittime perché cioè nessuno se aspettava che quella notte qualcuno morisse ma si possono usare anche le freccettine vabbè ero un po' più abituato con watcha cavolo capisci che ti odio plumber capisci capisci che cavolo si no se non ti muovevi ti ammazzavo brutalmente si ce l'ho fatta ce l'ho fatta press down ah è sempre sotto cogliazzo ho chiacciato qua e ho pazzamai cavolo posso saltare no mi sono vazzata no non è come correre nei prati mh pazzamai allora io non so se devo fuggire o aiutare l'incontro no come posso fare si si dai però ditemi qualcosa nei commenti in cui posso esprimere la mia rabbia senza dire parolacce ditemelo per favore ci tengo ah e guardate anche il video di ieri quello di happy world due secondi ah non so se vi è arrivata però avevo chiesto sul video di cos'era diepio si non so se è stata fatta veramente però una una giudicazione si di fare un nuovo mondo in slime ranger fare un nuovo gioco che però non so quale potrebbe essere oh boh ce l'ho fatta mentre stavo parlando questa era un genio una genius shish no stunts no ma che vale stunts eh no no stunts si ce l'ho fatta questo oh cos'è questo un fantasmino posso raggiungo ah no ma che cavolo ok praticamente quando non mi vede eh cioè quando mi sta guardando da quella porta e se no ah aspe ma cavolo ma vai allora vai fanta cavolo ce l'ho fatta grande genio oh 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 nascondami ok oh si ma fammi andare però no cioè so come farlo sto livello il problema è che lui è velocissimo come cavolo fa ad essere così veloce non ne ho idea no dimmi che ce la fai a prenderla si grande next level sembra tipo un gasto sta roba dai prende monetine però bambino prende monetina bambino prende monetina si bambino prende monetina allora devo fare ma che ma ma cos'è che dovrei fare scusa ah spena 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 non ho capito ah così l'ho ammazza non sapevo cioè non ho quasi mai fatto dei videogiochi mario fai schifo mario help me mario cavolo mario no mi ha fatto salvarsi cavolo doveva finirne la vabbè finisci la la ma si mi ha fatto non lo so non lo so se è prima che ho stoppato il gioco ci sono gli spettri eh oh oh perché non mi fai mi fai sparare cosa è sta roba oh replay level perché non ah allora aspetta no devo farlo prima subito così no allora da vai ho capito ma non ho capito perché si sono invertiti dei tasti allora devo fare tan tan no allora devo fare subito tan tan non l'ho un po' prima tan no perché l'ho capito il concetto fai schifo mario bro ehi sì come ho fatto non lo so però era questa la mia intenzione no devi prendere le monettine bambino prendi le monettine sale e prende le monettine ma salta qui no stupido bambino cavolo com'è che faccio capito come fare quanto prendi quelle no bambino no bambino da me farà come ho fatto non ci credo no aveva funzionato ho capito cosa devo fare comunque ah ok va bene vai ciao super mario caro amico è vero che devo fare che devo fare sinceramente ah che figata aspetta no no si prossimo livello questi col boss sono carini no fai schifo ma no com'è com'ho fatto grande grande no 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 qui stand e che caro devo ammettere che sono difficili questi livelli oh aspetta 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 qui è impossibile però no 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 ah una cosa che non dico mai quasi nei miei anzi non ho mai detto nei miei video è condividete con gli amici eh che importante perché magari potreste consigliarmi giochi ho anche cose da fare che o anche potrei fare cose che mi piacerebbero però se nessuno di un un cavolo di nessuno mi guarda no se un cavolo di nessuno mi guarda è inutile eh è bomber vai vai si e vai che si comanda andiamo a comandare cavolo salta no si mori si si cavolo si cavolo che livello sono ho vinto ho vinto non piangere principessa abbiamo ucciso il mio lo stalker che ti che ti che ti rea fastidio no adesso cioè non ti darà più fastidio noi abbiamo vinto guarda come felice la principessa al posto che piangere come super mario si vede che era un astrucatore no bello bellissimo questo gioco comunque ragazzi per questo video io credo sia tutto e noi ci vediamo al prossimo gioco e bene al prossimo al prossimo gioco ciao ragazzi